Marco Mongiara, tecnico della Wallianzata. Marco, partite da dimenticare subito, partite da voltare immediatamente pagina. Diciamo che a ritorno dopo la sosta dovete togliervi ancora un po' di ruggine. Guarda, è lo stesso copione di tutte le partite che facciamo in casa, sostanzialmente. Giochiamo malissimo, abbiamo meritato di perdere 3-0. Però Brescia ha sicuramente giocato per vincere la partita, per tirarsi fuori dal problema retrocessione. Noi invece sembrava che fosse una partita come le altre. Un discorso di gioco, di testa, di timori, di cosa secondo te? Un discorso di errori tantissimi, perché anche in questa partita abbiamo fatto 26 errori. Dove vuoi andare con 26 errori in 3-7? E poi? Tanta disattenzione, poca concentrazione. Tutto quello in partita facciamo tutto quello che non si fa in allenamento. In allenamento il gioco è completamente diverso, c'è più concentrazione, più voglia, più intensità. Sicuramente qua invece non è così. A questo punto si vive partita dopo partita, giornata dopo giornata? Sì, chiaro. Deve essere per forza così. Il problema è che qua serve veramente un salto di qualità non indifferente, perché sabato scorso a Trieste è stata veramente facile. Non so, probabilmente abbiamo pensato di poter far bene come sabato scorso, ma sabato scorso noi abbiamo fatto una partita normale, è stato a Trieste, è sbagliare tantissimo. E sbagliando così, come stiamo facendo noi, non ci sono squadre che ti perdonano. Anche perché in questo sport alla fine strucca, strucca, stringi, stringi e vince chi sbaglia di meno. Sì, non proprio, però quando fai 26 errori hai già regalato mezza partita, perché 26 errori in punto sono un set pieno che regali all'avversario.